Ragazzi buongiorno video speciale perché me lo stai chiedendo in tantissime amante ma come fa la gente già sta a giocare perché ragazzi c'è il trucchetto della Nuova Zelanda vi ricordo non mi prendo conseguenze e responsabilità se lo volete fare adesso ve lo spiegherò in questo video vi permetterà di giocare Nuova Zelanda perché per il fatto del fuso orario la già è disponibile MV3 diciamo Nuova Zelanda già è nel futuro qui in Italia confermato alla mezzanotte su console alle 6 del mattino per quanto riguarda il pc voglio per questo video almeno 500 mi piace lo dobbiamo spaccare vi faccio vedere questo trucchetto prima cosa andate direttamente nelle impostazioni della vostra xbox partiamo da xbox che è quello più complesso perché su playstation dovrete soltanto cambiare la localizzazione in Nuova Zelanda andate nell'impostazione della vostra console xbox dove sta dell'account ok andate direttamente in dove sta perché mi ce fa andare aspetta ve lo faccio vedere ragazzi e dai forza un po' andate in impostazioni nodi nodi configurazione alla fine eccolo qua impostazioni andate in impostazioni poi andate qui in sistema lingua e località località mettete Nuova Zelanda ok pertanto è una combinazione lingue diverse dello schermo seleziona riavvia ora e riavviate la vostra xbox questa è la prima cosa da fare per quanto riguarda l'xbox quindi si riavvierà l'xbox e imposterà ovviamente la lingua nuova zelanda probabilmente alcuni menu diventeranno letteralmente in inglese ma questo è ovvio perché non riconosce la lingua italiana per quanto riguarda appunto il territorio neozelandese spostiamoci direttamente ad xbox mentre si riavvia e andiamo direttamente qui su youtube o meglio su la schermata di activision scrivete su google activision support fate il login con il vostro account di gioco quindi il vostro account di activision che può essere xbox può essere login con playstation battle.net e andate nelle informazioni basic basic info address quindi direttamente nella sezione indirizzo fate modifica e ovviamente avrete impostato l'italia come giusto che sia andate a cambiare in new zealand e lo andate direttamente a salvare come modifica quindi come impostazione ok edit questo l'abbiamo fatto poi indirizzo via via che vogliamo mettere si dene si dene si dene si dene ok salva e abbiamo cambiato l'indirizzo in nuova zelanda ritorniamo direttamente su xbox dove avvieremo in questo caso call of duty lanciamo subito l'applicazione di call of duty se ha perché non c'è il controller spento perché sarebbe avviata la console ecco qui e lanceremo call of duty quindi molto semplice perché da qua lo andrete direttamente a impostare comunicazione con i cosi interrotti perfetto ok cambiamento statistiche su playstation è la stessa identica cosa l'unico problema qual è guardate deathmatch a squadra e posso entrare a giocare ragazzi su mv3 eccoci qua siamo dentro ad mv3 allora cosa molto importante voglio chiarire questo aspetto potrebbero bannare quindi attenzione a quello che state facendo su xbox il trucchetto è questo qua su playstation vi basterà fare soltanto lo step di activision non cambiate nulla nella playstation 5 per quanto riguarda la nuova zelanda solo account su activision support quindi l'account di activision sul sito appunto di activision nulla nella console mi raccomando ragazzi attenzione a questa cosa qui xbox sia console che activision vi ho detto non mi prendo responsabilità di quello che potrà accadere rischierò anche io di essere bannato però giochiamo un pelpo prima ad mv3 spaccate sto video condividetelo con tutti i vostri amici e noi ci vediamo che siamo in diretta in live su twitch rischierò anche io di servizio